Così ci proteggiamo, nessuna stretta di mano. Lavare le mani, maschera, mantenere un metro e mezzo. Siete malati? Blame, esibite zuhause, è stato venire a casa. Per mangiare c'è il baracchino con le crepes. Ma che roba! Siete malati! Siete malati! Siete malati! Gel bizzire! Ma va, ma che desidero, non c'hanno niente, non c'hanno neanche la fontanella col sapone, ma che roba, va lì come i salti, quelli che saltano lì sui, c'è un obiettivo di mascherine qua, ce n'è uno su cento, ma che roba. Grazie.